Allora, niconisti, questa mattina siamo andati per cantine e adesso siamo in questo posto che si chiama, adesso ve lo dico come si chiama questo posto, ma è assolutamente incredibile guardate quanti salumi ci sono in questo posto, è questo qui il nome del posto, falorni, qua ci sono anche i formaggi e di qua abbiamo l'antibagno più bello di sempre, una roba incredibile vedete c'è il bagno e qui ci sono i prosciutti, una cosa assurda, cioè pazzesco e di qui c'è un'altra stanzetta con ancora prosciutti appesi, salami di tutto queste macchine bellissime della Berkel, veramente stupendo e direi che finisce qui da vacanza e direi che finisce anche in bellezza questo posto totalmente inatteso, queste sono cose di stagionatura veramente, siccome vale la pena farsi un giro e venire qui a mangiare qualcosa